Ci riscaldiamo un po' da questo lato, ma poi dopo partiamo un giorno, carino. E' una persona che è in studio. La cosa veramente interessante è che è un applicatore per contenere gli atleti in un senso ordinato ed estetico, ma allo stesso tempo diventa un vero e proprio spazio di lavoro. 5 postazioni, 5 esercizi. Primo, piegamenti sulle braccia, ginocchio, ginocchio. Se vogliamo intensificare facciamo un piccolo jump. Torno e vado. 2, rotto elastic, teniamo tensione, controlliamo con la gomma, non vogliamolo mai e vado a fondo dietro. 1, 2, se voglio intensificare una spazzicciata e un jump. Sicuramente più di impatto metabolico. 3, andiamo a fare delle trazioni. Una stretta, gomito stretto per il corso, una gomito largo in linea alla spalla per il terzoico posteriore. Spalla dietro, dietro. Anche qui, basta scendere di più e aumentiamo l'intensità. Torsione. Dal basso verso l'alto, lavoriamo bene, legiamo il punto bracciapiede. Piede a scacciapiede, così lavoriamo su tutti i due lati. Ok. Ultimo. Pronto. Creiamo delle varianti, già mentre lavoriamo, diciamo uno singolo, destra, sinistra, doppio e alternato. Ok, è importante che lo variamo mentre lavoriamo. Via. Allora, mi raccomando, organizzazione del lavoro, senso anti-orario. Chi è in questa postazione, a una lupa, passa sempre ai primi. Piegamenti, ginocchio, uno. Uno. Non è compriente. 3, 2, 1, go. Cambio. No, no, hai fatto tutti i due già. Ok, bellissimo, doppio, doppio, doppio. Alterna. Andiamo, andiamo, mi voglio più dinamici. Facciamo un bel jump, perché ce l'abbiamo. Matteo, facciamo un jump. Insieme. Dai ancora 10. 5. 4. 3. 2. 1. Stop. Centro. E basta. Qui apriamoci. Mettiamo un pochino di lato, anche noi. Ovviamente gli spazi sono limitati, eh. Con 50 metri quadri, un sistema ventaglio, l'organizzazione è molto efficace di distribuire. Torsione, attorsione. 3, 2, 1, go. Guardi, abbasso bene, scarica il gluteo indietro. Bene, bene, aumentiamo un pochino il ritmo. Ottimo. Forza, frusta, frusta. Dai che sono le ultime lezioni, tieni in giro. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, go. Giro, giro, giro. Scambichiamo bene. Gluteo indietro, piego un pochino le ginocchia. Usiamo dalla parte alla laca, il braccio teso, taglio la linea della spalla. Piede, scherzo a piedi, guarda a piedi. 3, 2, 1, go. Ok, bene, bene, inizio. Esatto, non è importante che parta da là, eh, dall'inizio. Ottimo. Bene, bene, bene. Più basso, più basso quello a fondo. Più basso quello a fondo. 5 secondi. 4, 3, 2, 1, stop. Giro, giro. Un bel respiro, 10 secondi e si riparte. Giro, la torretta di riesco a siedere. Piegamenti sulle braccia, ginocchio, ginocchio. 3, 2, 1, via. Marti, cos'è quella cosa lì? Fammi vedere la versione avanzata. Via. Jump. Jump. Grazie. Andiamo, andiamo, andiamo. Benissimo, benissimo. Rota bene. Attenzione. Come uno swing di golf. Devi aprire la città. Tac. Indentro con le ginocchia. Piega un pochino le ginocchia. Piega un pochino le ginocchia. Scarica il gluteo indietro. Andiamo. Siamo a 5 secondi. 4, 3, 2, 1, change. Ottimo. Ultimo giro. Pronti? 3, 2, 1, go. Ho già capito che devo stare lontano. Benissimo. 3, 2, 1, go. Cambio. Isolo, no, no. Che fanno? Dobbio. 3, 2, 1, go. Ok, vediamo il secondo giro di esercizio. Intanto recuperate. Primo. Squat. Trazione. Skate. Allungo quando scendo. Trazione quando salto. Secondo. Ci teniamo un riferimento avanti. 3, 2, 1, go. Ottimo, anche troppo. Un pochino di meno. Lì, stai lì. Benissimo. Hop. Bra. Via. Utilizziamo anche altri cicli se quando salto. Lavoriamo sempre bene di percezione. Diamo un senso a ogni cosa che facciamo. Ottimo. Dai, dai, dai. Carichi, carichi. Ancora 10 secondi. Vai. Easy. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Via. Ben respiro. 10 secondi. Si riparte. Quindi concentrati. Andiamo via in senso orario. Ti ricordi? Oppure diretto. 5, 4, 3, 2, 1, go. Vieni qua. E spingo. Ok, usiamo altri cicli. Aiuto. Bene, distendo quelle braccia. Qui dobbiamo lavorare con la retroversione del bacino. Vieni, da qui. Ok. Bene. Cerca di portarlo più avanti possibile l'approccio. Ci siamo? 10 secondi. Teniamo ancora, eh. Bene. Vuota anche la testa. Qua. Bene. Eccolo. 4, 3, 2, 1, stop. Cambio. Vi la, vi la, vi la, vi la, vi la. Rope elastics. Noi siamo qua. Ci siamo. Ci siamo già pronti, eh? Bene. Te lo ricordi? No. Afferra qua. Esatto. Afferra. Scendo. Attengo attivo l'addome. E risalvo. 3, 2, 1, go. Anche troppo. Vieni un pochino più avanti. Lì. Eccolo va. Bene. Via. Eccolo. 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 Ancora, ancora, ancora. Voglio 15 secondi di lavoro. Vengo. Aumentiamo. Forza. La. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Giro. Giro. Esatto. Sport e trazione, eh? Sport e trazione. Ci siamo? 5, 4, 3, 2, 1, go, go. Buono. Perfetto. Compressore. Bene. Bene. Alla un pochino l'appoggio. Esatto. Puoi venire leggermente più su? Eccolo. Ci siamo. A voglia il tempo. Ancora 10. Eh? Bene. Ottimo. Si vede. 3, 2, 1, stop. Giro, giro. Ci siamo? Questa è la squadra. Un po' la udata. Capito il sistema? Bene, bene. Per respiro si riparte. 3, 2, 1, go. Bene. Ok, voltiamo la testa di l'azione. Esatto. Ginocchio bene alto. Puoi che tenere tutte e due insieme. Unito. Meglio ancora. Esatto. Ottimo. Lì. Perfetto. Senza aprire troppo le braccia. Mantengo in linea. Allargo un pochino anche l'appoggio. Bene. Esatto. Vengo, vengo. Ok, senza piegamento delle braccia. Ok? Stabilita qui. Via. Benissimo. Cinque secondi. Quattro. Tre. Due. Uno. Stop. Ci siamo. Abbiamo finito. Giorgiosi. Questo è un lavoro di tecnica, ma anche di grande fantasia. Le varianti possono essere in mare. di più. Di color. Uno. D'acqua. Dove. Dove. Da. Dove. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.